Nell'Italia delle mille disparità sanitarie, la storia di Simona Coluccio, madre della piccola Maria Pia, testimoni una delle tante battaglie silenziose condotta da chi è costretto a combattere ogni giorno per i diritti fondamentali. Maria Pia, affetta da una gravissima disabilità, non ha ricevuto la giusta assistenza per le sue necessità e la madre ha denunciato pubblicamente l'inefficienza delle istituzioni della sanità calabrese. Dopo mesi di richieste formali per un aumento delle ore di assistenza alla figlia, la situazione è peggiorata. Le ore necessarie non solo non sono state concesse, ma ora la gestione delle cure è passata nelle mani di cooperative che non riescono a garantire il livello di assistenza indispensabile per la bambina. Sembra un calvario, afferma Simona, con voce rotta dall'esasperazione. Mia figlia è stata penalizzata anche dall'ultima commissione che ha cambiato il piano assistenziale, relegandola ad assistenza ADI, assistenza domiciliare integrata, inadeguata per le sue condizioni. Quello che per molti potrebbe sembrare un solo disguido burocratico per Maria Pia è questione di vita o di morte. Dal 22 agosto la bambina non ha più ricevuto terapie fondamentali per la sua sopravvivenza. Per mia figlia la terapia è vita, dichiara Simona, spiegando che mentre aspetta una risoluzione ha dovuto provvedere privatamente a garantire le cure necessarie. Simona ha così deciso di intraprendere azione legale, affidandosi all'avvocato Pino Mammoliti per denunciare non solo la situazione attuale, ma anche tutte le carenze passate che hanno gravato su Maria Pia e la sua famiglia. Non mi darò pace finché non capirò perché mia figlia non può avere l'assistenza giusta, vista la gravissima disabilità di cui soffre. Dietro alla rabbia di questa madre c'è un profondo senso di ingiustizia, alimentato dalla discrepanze territoriali che ancora caratterizzano il sistema sanitario. Se Maria Pia fosse nata in un'altra parte d'Italia non ci sarebbe stato bisogno di tutta questa umiliazione, riflette Simona, che ora confida nella giustizia affinché ponga fine quello che definisce uno stilicidio di negata assistenza.